Casina Appoggio della Rota è una location esclusiva, dallo stile architettonico che fonde in modo originale l'antico con il moderno e la rende ideale per qualsiasi tipo di evento ed allestimento. Immersa nel verde dei suoi 10 ettari, la villa spicca in cima ad una collina, tra i due laghi di Vico e Bracciano. La tenuta vi riserva un esclusivo scenario immerso nella natura e tutto il comfort delle sue eleganti sale. A seconda delle vostre preferenze, sarà possibile allestire le diverse fasi della festa tra i curatissimi giardini con piscina e le accoglienti sale interne, che verranno allestite ad hoc per l'occasione. Casina di Poggio della Rota offre un servizio unico tra Roma e Viterbo, il rito civile e ufficiale nei saloni della villa o all'aperto, all'ombra degli ulivi secolari, con delega comunale per ufficiare la cerimonia. Affidandovi ai catering di fiducia di questa location, selezionati tra i migliori sul mercato, sarà possibile studiare il menu che soddisferà anche gli ospiti più esigenti, totalmente preparato nelle cucine della residenza il giorno dell'evento.